Buongiorno a tutti, dallo scrittore Ghost Rider Matteo Di Gennaro. Oggi parleremo della biografia. Infatti questo video è rivolto a tutti i professionisti, all'imprenditore, agli uomini di sport, agli artisti, agli uomini politici, chiunque abbia così in testa l'idea di scrivere la propria vita, per l'appunto la propria biografia, riversare su carta quello che è il suo vissuto, le sue emozioni, il proprio racconto di vita, di esistenza. Ecco, il mio approccio segue diversi step. Il primo ovviamente c'è la fase conoscitiva, vi intervisterò, mi farete vedere le vostre foto, cercherò di capire come parlate, come muovete, qual è il vostro pensiero, in modo tale da scrivere una biografia su misura fatta per voi. Ecco, le biografie, preciso fin da adesso, che non devono essere ecratanti, non bisogna guardare la commerciabilità della biografia, ma bisogna puntare sulla spontaneità, raccontare alla gente chi veramente siete. Ed è questo che io farò, riversare su carta la vostra essenza, la vostra anima, il vostro cuore. Dopodiché, con tutto il materiale che voi mi avrete dato, per l'appunto attraverso foto, racconti e interviste, mi metterò a scrivere la vostra biografia con un costante rapporto di collaborazione, costantemente, settimana dopo settimana, valuteremo insieme i vari passi che sono stati fatti. E alla fine avrete la vostra biografia, pronta da essere pubblicata con le grandi case editrici. Ecco, una cosa che tengo a sottolineare e a cui tengo molto, molto, è che alla fine non saremo più professionista e clienti, ma saremo amici. Perché è per quello che mi riguarda raccontare le storie, le emozioni, il vissuto delle persone, quindi scrivere un romanzo, perché alla fine io scrivo un romanzo, il vostro romanzo. Quindi, se avete bisogno di qualcuno che insieme a voi scrivi la vostra biografia, contattatemi. La mia mail di contatto è matteo.digennaro1968chiocciolalibero.it Ripeto, matteo.digennaro1968chiocciolalibero.it Forza, vi aspetto e insieme daremo vita alla vostra storia. Ciao!